Ruggiflex, ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62 Riprendono da oggi in Italia e in altri paesi d'Europa le vaccinazioni con AstraZeneca, dopo il via libera dell'EMA arrivato nella giornata di giovedì 18 marzo. L'Agenzia del Farmaco, dopo un'attenta analisi dei dati, è giunta alla conclusione che il vaccino è efficace e sicuro e che i benefici superano qualsiasi possibile rischio, escludendo difetti nella qualità della manifattura o in lotti specifici. Le consultazioni hanno portato dunque alla conclusione che il siero non è associato con l'aumento dei coaguli di sangue osservato da alcuni scienziati. Come ha indicato la direttrice del lema, l'irlandese Imer Cook. Tra i primi ad annunciare la ripartenza è stata proprio l'Italia del premier Mario Draghi. Anche la regione Campania in linea con le disposizioni nazionali, ha comunicato che si riprenderà a partire da oggi con la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Così come a Cava dei Tirreni, da oggi pomeriggio a partire dalle 15, al centro di vaccinazione allestito presso il Palazzetto della Protezione Civile di Santa Lucia, è in programma la ripresa delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca per il personale docente e non docente degli istituti scolastici cavesi. Intanto si continua a fare i conti con la terza ondata dell'epidemia da Covid-19. In particolare, i nuovi positivi registrati in provincia di Salerno nell'aggiornamento di giovedì 18 marzo sono 436. Per quanto riguarda la città metelliana, dall'ultimo report disponibile dell'unità epidemiologica di Cava dei Tirreni del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Salerno, reso noto dal primo cittadino Vincenzo Servarni nel corso del mattino di venerdì 19 marzo, risultano attualmente positivi 348 cavesi, di cui 10 sono in ospedale, 91 sono i nuovi guariti, mentre 18 sono le persone che hanno perso la vita, di cui 12 nella seconda fase della pandemia.